Claudio Cagnazzi, in un video nel quale io contestavo le affermazioni di Mauro Biglino, mi ha posto una domanda e io gli ho detto che ne avrei trattato in un video perché la risposta era piuttosto articolata. Bene, andiamo a occuparci esattamente della richiesta che egli mi ha fatto. Claudio mi scrive, a monte di tutto leggete la Bibbia, sempre che sia un testo attendibile. Considerandolo tale, spiegatemi che benevolenza c'è nel fare questo senza elucubrazioni. Spiegatemi letteralmente cosa significa e che senso aveva quanto scritto in Esodo 12, 23. Infatti il Signore passerà per colpire gli egiziani e quando vedrà il sangue sull'architrave e sugli stipiti, allora il Signore passerà oltre la porta e non permetterà all'angelo sterminatore di entrare nelle vostre case per colpirvi. Osservate dunque questo come una istituzione perenne per voi e per i vostri figli. Quando sarete entrati nel paese che il Signore vi darà come ha promesso, osservate questo rito. Quando i vostri figli vi diranno che significa per voi questo rito, risponderete questo è il sacrificio della Pasqua in onore del Signore, il quale passò oltre le case dei figli d'Israele in Egitto quando colpì gli egiziani e salvò le nostre case. Il popolo si inchinò e adorò. Poi i figli d'Israele andarono e fecero così. Fecero come il Signore aveva ordinato a Mosè e ad Aronne. A mezzanotte il Signore colpì tutti i primogeniti nel paese d'Egitto, dal primogenito del faraone che sedeva sul trono, al primogenito del carcerato che era in prigione e tutti i primogeniti del bestiame. Il faraone si alzò di notte, egli e tutti i suoi servitori e tutti gli egiziani, e vi fu un grande lamento in Egitto perché non c'era casa dove non vi fosse un morto. E Claudio Cagnazzi continua. Poi leggetevi anche questi e fatevi un'idea. E elenca tutta una serie di libri e di brani in cui tutto sommato c'è l'espressione di un Dio terribile. Egli ha deciso di farsi carico del suo popolo e davanti al suo popolo non esiste misericordia per nessun altro popolo. In uno di questi brani, adesso non so quale, c'è scritto addirittura che quando Israele entrerà in Israele, vi troverà presenti altri popoli. Ebbene dovrà ucciderli tutti, altrimenti chi sarebbe rimasto ad abitare quelle terre avrebbe seguitato a celebrare i suoi Dì, i suoi Elohim. E non ci sarebbe stata la fede nell'unico Dio, Yahweh. A conclusione di tutti questi interventi che mostrano un Dio così terribile, conclude Claudio Cagnazzi dicendo, Biglino in merito alla Bibbia ha ragione. Vedete, io non metto in dubbio la presenza di un simile Dio terribile. Ma poiché il gentile Claudio Cagnazzi mi chiede, considerando tale testo, spiegatemi che benevolenza c'è nel fare questo, senza elucubrazioni. Bene, passiamo alla spiegazione di che senso aveva tutto questo. Tutto questo aveva il senso delle beatitudini dichiarate da Gesù per tutti i sconfitti che patiscono in virtù di una prepotenza. È troppo semplice? Il vero Beato, secondo Gesù Cristo, non è chi vince, non è l'oppressore, non è chi trionfa, ma chi è sconfitto. Il vero Beato in questa condizione qui è tutto quel popolo colpito ferocemente da un simile Dio che, mentre è ucciso in tutti i primogeniti, patisce il massimo della croce. Chi patisce la croce in questo mondo reale, e questa è la nostra fede, è chi ha la benevolenza di Dio. Se non è arrivato a capire che Gesù Cristo ha la benevolenza di Dio perché nel mondo reale ha patito la stessa croce per mano della stessa fede in tutto ciò, allora non cercate il trascendente in niente di trascendente. Lo volete cercare nel mondo reale? E nel mondo reale, caro Claudio, il trascendente non esiste. Senza tergiversare, che cosa significa trascendente? Significa reale? Il reale non è trascendente, il reale è reale. Vi sono due dinamiche, una reale, l'altra trascendente. E qual è la dinamica trascendente? È quella uguale e contraria alla dinamica reale. Senza tergiversare, ogni azione, secondo il terzo principio della legge dinamica chiamato di azione e azione uguale e contraria o reazione, ogni azione esiste sempre come una coppia di azione e azione esattamente uguale e contraria. Allora, se esiste la morte per gli egiziani, esiste la resurrezione per gli egiziani, proprio quelli che sono morti. Se esiste la sconfitta della vita per tutti, perché tutti nascono e quindi entrano nella vita come soggetti e ne escono come cadaveri. La vita è una sconfitta per tutti. Fa forse differenza che questo disegno di Dio presenta questo esito dopo una vita condotta normalmente, oppure condotta in terra d'Egitto, finché quel giorno lì non ci fu la morte degli innocenti, poveri vittime, che non avevano altra colpa che di essere i primogeniti di quel Egitto il cui Dio doveva riscattare il suo popolo e farlo uscire di lì. Fa differenza? Forse che quei primogeniti sono stati colti in quel preciso momento, anziché al termine della vita in cui tutti sono uccisi da Dio. Allora, o si capisce che Dio non uccide nessuno, anzi, va a cominciare la vita vera proprio con la morte, o tutto quello che è visto, tutto. Non fa differenza se prima o poi. C'è la dichiarazione e la condanna a morte fatta da Dio nei confronti di ogni vivente. Quindi c'è bisogno di andare a prendere questo brano della Bibbia in cui si parla di un Dio così terribile? O questo Dio così terribile ce lo avete davanti agli occhi in tutta la vostra vita reale? Fatevi questa domanda. Ma il Dio nella nostra vita reale, il Dio è quel valore di trascendenza dalla vita reale che fa partire la vera vita, quella divina, dalla morte. Voi a questo punto non capite perché pensate che la vera vita cominci dalla morte e continui ancora nel verso che abbiamo noi nella vita reale. No, 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 non è così. Se voi immaginate un futuro in cui nel verso reale tutti i corpi dei morti dovrebbero ricostruirsi per determinare la loro presenza, anima e corpo, come è annunciata dalla religione della resurrezione anima e corpo, intanto dove li mettiamo tutti questi uomini che sono vissuti nel passato, nel presente e nel futuro, tutti coesistenti sulla stessa terra? Ma ci sarebbe una ressa tale che sarebbe peggiore di quella che c'è in un tram affollato dell'ora di punta. Bisognerebbe violentare tutte le leggi della natura per trasformare un corpo che si è dissolto fino al punto da essersi atomizzato in tutto l'universo e rimetterlo insieme nel suo corpo. Invece ecco come è normale ripristinare la vita in un morto. Dio, onnipotente creatore di tutto e del tempo, è in grado di crearlo in avanti e in indietro e alla fine della morte come un'onda luce che incontra una parete che non può essere perforata perché incontra uno specchio. Ritorna sui suoi passi, così fa la vita reale quando incontra la morte. Ritorna sui suoi suoi passi. Non arrivate a capire in che modo? Eccolo qui, vedete? Fino a quando questa onda ha il modo di proseguire, prosegue replicandosi. Ma quando non può replicarsi, essendo energia eterna e ha avuto questo movimento in questo verso, cosa fa? Fa così e mette in atto il verso che ritorna. Compie esattamente quello che normalmente compie ogni specchio reale. La rimanda indietro, la rimanda al mittente. E un bambino che incontra tutta la sua vita fino a questo specchio della morte e riceve indietro la sua immagine di bambino, la riceve dopo questo straordinario fenomeno di una vita vista fatta tutta e poi disfatta tutta e ritornata al principio. Senza tergiversare il dinamismo che appare è falso. Noi vediamo il sole sorgere, crescere nel cielo, come un bimbo che nasce, cresce. Il sole raggiunge il punto più alto nel cielo, come l'uomo che raggiunge il momento più alto della sua creduta potenza. E poi comincia la fase calante che porta alla morte, come l'uomo che comincia ad avviarsi verso il suo declino e verso la sua morte. Ebbene, come è una dinamica falsa quella che appare nel sole, è una dinamica falsa quella che appare nella vita dell'uomo che segue lo stesso schema di una apparenza reattiva alla vera attiva, che non è il mondo che viene verso di noi, come il sole che viene verso di noi, come un bambino che avanza verso di noi e cresce fino a mostrarci poi la sua vecchiaia e la sua morte. Non è questo. È il soggetto osservatore che sta andando verso quel verso e di conseguenza vede la dinamica apposta. Caro amico, se tu andando a osservare le cose che esistono, le vuoi capire? Devi arrivare a capirle nella loro verità. Ma la verità può essere espressa a due livelli. Ce n'è uno terra terra. Nella verità terra terra, per esempio, se tu guidi un automobile e vuoi imparare a guidarlo, vai alla scuola guida e lì ti insegnano. Se sterzi, la macchina gira di qua o di là. Se schiacci questo pedale, acceleri. Se schiacci quest'altro, freni. Se muovi questa leva, cambi le marce. Ecco, hai imparato a fare queste quattro operazioni in modo da condurre la macchina come vuoi? Bene, sai guidare. Stop! Non occorre che tu sappia che cosa succede quando tu giri. in tutti gli organi meccanici della macchina. Basta che tu sappia il fine cui ti porta se tu sterzi o se tu acceleri. È un modo facile e semplice per guidare. Non occorre che tu sappia come è costruita la macchina. Però in questo modo qui ci sono delle operazioni che tu potresti fare danneggiando la macchina. Perché se ignorando che la frizione, se continui a schiacciarla, la bruci, perché è questo che succede nella frizione. Se continui a premere, ma tu continui a premere, ottieni che scassi e rovini la tua macchina. Allora, a un certo livello, bisogna arrivare a capire come funziona la macchina vita. Perché se non si arriva a capire questo, allora l'esame è quello solo terra terra che ti ho fatto fino a questo punto. E ti ho detto che dopo che c'è stato il Vecchio Testamento in cui si aspettava il Messia, il Messia è arrivato e ha fatto capire che i veri beati non sono quelli che vincono. I veri beati sono quelli che perdono. Sono quelli che patiscono ogni supplizio fino alla croce. E allora, vedi, caro amico, secondo questo esempio, chi ha patito la croce in Egitto nel corso dell'ultima delle dieci piaghe? Forse i vincenti e vittoriosi ebrei che si sono riscattati dall'Egitto? Oppure quei poveri primogeniti degli egiziani negli uomini, negli animali, che hanno dovuto pagare di persona per questa affermazione divina, trascendente? Chi? Non sono stati i vincenti che si sono riscattati, sono stati i perdenti. E dunque io ti ho spiegato che logica c'è. La logica di un mondo in cui nel mondo i veri vincenti sono i perdenti, i veri primi sono gli ultimi, quelli che veramente si salvano sono quelli che qui veramente sembrano essere sconfitti. E se tu vuoi una ragione in tutto ciò, visto che proprio mi hai citato questo momento, ecco, consideriamolo sotto il profilo del popolo di Dio che si trova in Egitto. Chi è il Beato in quel momento? È quell'ebreo che, intrallazzato con il potere del Faraone, ha dei privilegi, ha dei vantaggi, è arricchito. sembra invece un povero derelitto, quel povero ebreo perseguitato da Faraone che è intrigato nella sua vita, che è schiavizzato nella sua povertà di ogni cosa. E giudicando sotto il profilo di questo stato di fatto noi diremmo che il Beato tra gli ebrei in Egitto è chi riesce a fare una vita decente e non è quell'altro. Ma ecco che dopo l'Esodo tutto si rovescia perché nella desertificazione della vita che viene dopo i veri beati risulteranno quelli che prima stavano male perché adesso non avranno più il Faraone che cerca di ucciderli. Non hanno più lo stato di miseria che avevano prima perché ora sono serviti da Dio con la manna, con le quaglie, con tutto. Quelli che stanno male sono quelli che erano su prima e sono stati abbassati a livello di quelli che prima stavano male. Chi rimpiange la vita di prima? Quelli che prima stavano bene. Ecco, lo stesso libro della Bibbia nel Popolo di Dio mostra i due momenti della stessa vita, andata e ritorno. Due vite e non una sola, due dinamiche e non una sola. È il libro stesso che la mostra nel Popolo di Dio. 40 anni virtuali in terra d'Egitto, schiavi del Faraone e altri 40 anni che passeranno nel deserto. Solo il conduttore che porta il popolo nella terra promessa è uno che ha vissuto oltre i due momenti. Nemmeno Mosè entra nella terra promessa. Tutti morti. E che cosa vuol dire questo libro? Che a quanto pare sembra, secondo le conclusioni del nostro interlocutore, una cosa che non indica niente. Che cosa significa? Significa che nella vera terra promessa, nel Paradiso, si entrerà dopo l'esistenza di un inferno e un purgatorio. L'inferno è questa vita reale in questa terra d'Egitto del soppruso che ciascuno di noi ha da parte di Dio. Perché è un soppruso apparente che l'uomo nasca fatto da Dio per morire. È un soppruso, è una violenza totale di un Dio che si mostra come un assassino. Ma è soltanto una fine benedetta posta a questo soppruso. Perché essendo un soppruso a termine, dopo viene la fase esattamente uguale e contraria, in cui se da una parte c'è un soppruso, dall'altra c'è la libertà totale. Se da una parte c'è il limite della morte, dall'altra parte c'è una vita senza più limite, eterna. Se da una parte c'è la violenza, dall'altra parte c'è la rinuncia alla violenza nell'amore. E si spiegano i due momenti della vita. Uno apparentemente condotto da Satana, l'altro condotto da Dio. Ma Satana, in questo mondo, che sembra fare le cose, è solo la visione sbagliata. Perché è quella uguale e contraria a Dio che cancella tutte le cose. Allora, vedi, la trascendenza di Dio è quella che trascende il suo stesso disegno. Perché se nel disegno è espressa qualunque cosa fatta, Dio la sta disfacendo e non facendo. Ma poiché si disfa tutta andando a zero in questo verso e l'uomo è posto qui a osservarla, a leggerla, ecco che mentre tutto un film viaggia verso sinistra, l'osservatore lo vede in una progressione verso destra. Ma se l'uomo che l'osserva lo vede progredendo verso destra, non sta andando verso il futuro del disegno. Sta andando verso il suo passato, non verso il suo futuro. Di conseguenza, quando un bambino nasce e va a morire, non va verso il suo futuro. Va verso il passato estremo della sua vita reale, che nasce da zero. E qual è il punto zero della vita reale? È il punto che è nell'estremo limite a salire quando il tutto si inverte e che comincia la discesa. Il momento zero del nostro binomio materia-spirito è in quel momento in cui un medico ti dice quest'uomo è morto perché non c'è più l'onda elettrica cerebrale che denota il suo spirito nell'atto vitale. È rimasto solo il corpo. Lo spirito non c'è più. Ecco, lo spirito è zero. E poiché noi dipendiamo dallo spirito, ecco storicamente lo zero in cui virtualmente comincia lo spirito. E da quel punto in alto della nostra vita, il punto in alto per la mia, tra parentesi, sarà il 26 di luglio del 2016. Quello è il punto più in alto in cui arriverà la mia vita. E da lì essa è nata, discendendo. Ho cominciato a avere in quel momento un prestito della vita dall'unico che me la poteva prestare, il Dio dell'essere. Come la banca dell'essere. Io, che non ho alcun essere, quando sono zero, accedo e giorno dopo giorno mi comincia a essere data tutta la vita. E quando tutta la vita mi è data, ecco che io mi ritrovo nell'attimo della mia stessa concezione come individuo. Ma passerò restituendo la vita nove mesi fino a che entrerò in scena come un soggetto che sia nato, che sia uscito dal grimo materno e continuo ancora a restituire giorno dopo giorno il prestito della vita. E dunque, a mano a mano, che io mi avvicino alla creduta morte, io lo faccio in una retrospettiva. Vado a vedere sempre il punto più arretrato che io avevo quando ho ricevuto il primo attimo in cui la mia vita è stata prestata dal Dio dell'essere, che ha voluto che anche io entrassi in essere prestando a me la sua vita. Se io sto facendo una retrospettiva, sto vedendo, secondo la retrospettiva, non la verità, perché io confonderò ieri con domani, confonderò il mio vero inizio, la morte, con la fine, con la morte, mentre invece è il mio vero inizio. È lì che è cominciato il prestito a me della mia vita e mi è prestata intera quando essa è ricondotta al punto iniziale. Tutta la vita umana è proprio diabolica perché consiste nell'apparente restituzione a Dio del dono della vita che ci ha fatto. Ma quando Dio ci fa arrivare al termine della vita e sembra che abbia attuato una cattiveria contro di noi, ci ha in realtà fatti nascere e non fatti morire. Di conseguenza tutti questi egiziani primogeniti che sono trattati e maltrattati in apparenza da Dio perché non arrivano a campare fino a 80 anni, ma fino all'età che avevano, sono esentati da Dio da tutto quel tempo di attesa che dovevano ancora avere prima di arrivare al punto iniziale. Sono arrivati già lì, all'inizio della loro vita. Per Dio significa essere ricondotti al principio dell'esistenza. Tanto che nascono, l'uomo li vede morti. E allora ecco come da una conoscenza approfondita, caro amico, risulta chiarissimo che mentre all'uomo sembra una punizione la morte, sotto il profilo divino, essa non è una punizione, ma è il dono stesso dell'esistenza, ma sembra il dono della morte, la condanna della morte. Questo è il modo giustificato, secondo logica, di quelle beatitudini che Gesù disse così semplicemente a quelle persone che dovevano condurre semplicemente la loro vettura nell'arco della vita. Gesù glielo disse, guardate che i veri beati non sono i vincenti, sono i perdenti in questo mondo qui. Volete vincere anche voi? In eterno? Ebbene, abbassatevi ora, perché sarete rialzati. Ecco, chi si abbassa in questo racconto che tu mi hai fatto, caro Claudio? Forse i vincitori che si riscattano e vanno nella terra promessa? O sono quei poveri Cristi, di quei poveri primogeniti degli egiziani e i primogeniti dei loro animali che piangono disperati per la morte, ossia per l'inizio vero della vita? Quando si capisce come stanno le cose, sapendo come funziona la macchina, ecco che si arriva a capire quella logica terra-terra che Gesù disse quando disse a chi riceveva uno schiaffo, offrite l'altra guancia, ossia mettetevi in condizione di avere un soppruso ancora maggiore. Quando disse se c'è uno scocciatore che vuole fare con voi un miglio di strada, fatene due. Ma come? Quello mi scoccia e io invece di tenerlo di lato devo farmi scocciare ancora di più? Sì, abbassati che sarai alzato. E se vi chiedono del danaro, non dateglielo a usura o aspettandovi che ci sia un tornaconto, un interesse per voi, donateglielo. Amate chi vi odia, perché tutti amano chi li ama. Ma io da voi voglio di più. Io voglio che voi amiate coloro che vi odiano. E se avete solo una tunica e un mantello e siete dei poveri e vengono lì che vogliono da voi anche la tunica, dategli anche il mantello, restate nudi, subite i sopprusi di tutti, abbassatevi. Capite bene che nella logica di Roma, la vincente Roma, simbolo totale del potere della logica e di ogni comportamento valido, tutto ciò è pazzesco. Perché? Perché io non posso tollerare nel mio impero romano questi cristiani qui che credono veramente questo. Perché questi sono dei debosciati. Gli dai uno schiaffo e se ne fanno dare un altro. Non si difendono. Non portano avanti i loro diritti. Non portano avanti niente, di niente, di niente, di niente. Bisogna contrastarli perché se crolla il criterio di una conduzione oculata responsabile del mondo, crolla Roma. Ecco, il crollo della logica del mondo è quello a cui vi vuole portare Gesù Cristo. Ma ecco che a questo punto io devo difendere Gesù Cristo. Perché voi, restando sempre in preda delle vostre idee fattive sulla vita, che sono false, voi non potete fare altro che osservare un disegno fatto da Dio, che si disfa, che retrocede, come la pellicola di un film che si sposta verso sinistra e voi osservate verso destra. Non potete fare nulla. Quello che verrà è un fotogramma è un fotogramma che c'è già. Solo che non l'avete ancora visto. Ma visto che la visione dinamica vi fa sembrare che voi fate, o voi non siete Dio che siete in grado di fare il fotogramma che viene, o i due fotogrammi che vengono, il disegno c'è già tutto e per fortuna lo ha fatto Dio e non voi. Ma fino a quando voi credete che siete voi che fate e non che c'è Dio che disfa il suo progetto, in primo, vedendolo entrare in scena nel mondo reale come chi si comporta in una maniera così apparentemente crudele, e voi credete che questa sia l'espressione divina di un fare. No, il fare che voi vedete è satanico, perché Dio disfa. Se voi vedete fatto quello che Dio disfa, voi non vedete in atto Dio, vedete in atto Satana. E vedendo in atto Satana, voi vedete un bambino pieno di rose e speranze che per un po' cresce nella sua vita, gioisce, soffre, conquista o non conquista, e poi arriva, zack, e muore. Questo vedete, la vita fatta per morire. E arriverete anche a dire che è giusto così, perché è giusto stare nel limite, nel piccolo, e arrivate a una visione microscopica del dono che Dio vuol fare a voi della vita. Perché Dio vi ha voluti piccoli, minimi, proprio per farvi desiderare tutto il contrario di quel piccolo e minimo che voi avete. Ma starà a voi definire che cosa vi manca. Avete questo libero arbitrio. Avete un dono e lo vedete in tutta la vostra vita e nella vostra libertà, nel vostro libero arbitrio spirituale, dovete arrivare a dire mi manca questo e accendere un interesse alla vita. Più la vostra vita è tartassata, più aumenta l'interesse per la vita. È una famiglia benestante oggi quella che al massimo mette al mondo due bambini. Le famiglie che sono in grave pericolo di sopravvivenza mettono al mondo una quantità enorme di bambini e voi li criticate. Questi incoscienti che non hanno di che far vivere i loro bambini e li mettono al mondo. Noi no, noi siamo virtuosi. Sappiamo che il mondo è difficile, che con quello che guadagniamo noi al massimo ne possiamo fare nascere uno, due, non più. La vita è difficile. Oh quanto è difficile la vita. Invece quelli che hanno niente, sono disgraziati, disperati, capiscono che dono immenso hanno quando hanno dei figli. Tutte le volte che la vita è a rischio proliferano le occasioni della vita. Se un solo spermatozoo dei miliardi che entrano in azione, ogni volta che voi dovete fecondare un ovulo, riesce nella sua conquista, ce ne sono miliardi destinati a morire. E uno dice ma che razza di Dio è questo? Per privilegiarne uno fa morire e tutti gli altri. Questo è un disegno visto al contrario. Tutto ciò che muore è ciò che vive in eterno. Non esiste un mondo come vedete in cui c'è la morte. La morte è il principio di ogni cosa. E se, caro amico, tu mi hai evidenziato proprio che logica c'è in questa morte, io te la sto spiegando. C'è una logica terra-terra che dice, come Gesù, chi perderà la sua vita sulla base di quello che io gli dico, l'avrà acquistata in eterno. E questa è una logica semplice che mette i beati tra gli sconfitti, tra coloro che hanno le croci. E più grandi sono le croci, più grande è la beatitudine. La croce mortale è il massimo della beatitudine. Ma Gesù Cristo sembra un vero idiota a costoro, perché gli dicono, caro Gesù, ma ti rendi conto di che razza di politica tu stai facendo. Se tutti ti prendono sul serio, qui muoiono tutti, non c'è più nessuno che lotta per la vita. E sono, coloro che dicono questo, gente che non ha capito nulla, che crede ancora che l'uomo possa decidere che cosa fare o no. Non hanno ancora capito che c'è un disegno già fatto, che non dipende dalla nostra volontà. Ma, quando udite quello che Gesù vi dice, siete orientati in che cosa volere, in che cosa desiderare. Ed è questo l'aspetto di libertà che avete, non quello fattivo. Voi, nel vostro spirito, anche quando leggete un libro che è già scritto tutto, e vi potrebbero chiedere, ma perché lo leggi? Non sei in grado di cambiarne una virgola, è già tutto riscritto, perché lo leggi? È perché, mentre tu lo leggi, sei libero con il tuo spirito. Entri in gioco tu con la tua essenza di fronte al caso concreto che stai vedendo. Allora sei veramente libero. Solo quando il libro è già scritto hai la totale libertà di giudizio, quella che l'uomo non ha, quando crede che, a seconda di come vuole o intende, poi cambia il destino. E allora diventa l'uomo timido, perché teme le sue conseguenze. Teme le conseguenze dei suoi gesti di amore, e arriva a non avere amore sufficiente per compiere cose che sa che sono condannate a una enorme sconfitta, forse anche alla morte, perché teme di morire. E allora non arriva ad amare fino a quel punto. Ma solo quando finalmente l'uomo avrà capito che non c'è un volere e potere. Perché c'è un volere e un potere nei confronti della propria anima, ma non del mondo. Questo mondo reale è come quel mondo nella terra d'Egitto in cui tutto era dominato dal faraone. Ecco, questo è questo mondo. È il facsimile del popolo ebraico quando era in terra d'Egitto, al posto del Ramses, metteteci Dio, e chi sta bene e chi sta male ha quella condizione resa possibile solo da un Dio che lo contrasta oppure no. Questa è la condizione umana in questa terra d'Egitto. È un mondo immodificabile nel mondo, laddove invece tutto è modificabile nel nostro spirito. E nel preciso momento nel cui noi vogliamo fare del bene agli altri, lo stiamo facendo alla nostra anima. Perché se io voglio fare del bene o un altro, scelgo per la mia anima la grandiosità di un benefattore. Se voglio rubare agli altri nelle aspettative del bene che io riceverò dalle cose che avrò rubate e che magari lo vedrò con un successo. Cosa avrò fatto di me? Avrò trasformato me stesso in un ladro, pieno di soldi, ma un ladro. Mi sarò condannato a una ben piccola cosa. Noi abbiamo il dono di poter essere tutto quello che vogliamo essere fino a essere nella stessa dimensione di un Dio di amore che si cede interamente a chi non ha. Questa è la infinita potenza che noi abbiamo. Non c'è nel disegno. Il disegno è solo una occasione come un libro già scritto. E allora, caro amico, e concludo, Biglino ha torto marcio quando, cercando il trascendente nella Bibbia, lo cerca nel testo reale della Bibbia. Se nel testo reale della Bibbia c'è scritto uccidi, 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 interviene lui e ti dice vedi? Dio non può chiedere questo. Ma è solo nel limite di Biglino a dire che Dio non può chiedere questo. Perché non arriva a capire che è quello che accade in ogni vita reale che fa parte di questo mondo reale. Allora, o non si ha proprio l'idea di un Dio, perché l'uomo nasce per morire e allora si esclude totalmente l'esistenza di Dio o se si ammette l'esistenza di Dio, come Biglino sembra ammetterla perché poi la ricerca e non la trova perché la ricerca secondo gli indirizzi opposti al verso che egli deve seguire per trovarlo. E quindi nei suoi limiti, che sono veramente angusti, Biglino ha ragione perché cerca la verità in un modo che prosegue in modo non verso l'avanti ma verso il dietro. E di conseguenza, se si retrocede e non si avanza, come si può trovare un miglioramento? Se l'uomo dice, signore, signore, non farmi ammalare e poi ti ammali, concludi, Dio non ha ascoltato la mia preghiera. Ma se tu arrivi finalmente a capire che quel domani che tu vedrai non è il domani ma è ieri e vedrai che quando arrivi a questo ieri lo trovi ammalato, allora in questo momento che è più avanti di ieri tu sei sano e mentre chiedi a Dio non farmi ammalare ti ha già ascoltato perché sei sano, ti ha già risanato e vedrai che ti ammali ma quella malattia è la malattia da cui provieni e quando alla fine vedrai la tua morte non è la tua morte ma è l'inizio della vita da cui tu provieni. Quindi se non si usa il criterio trascendente per le cose trascendenti si cerca la verità dove la verità non può esistere perché la verità di un Dio trascendente la si trova solo sulla trascendenza e se non cerchi la trascendenza nella Bibbia ma l'immanenza di leggi che appaiono così come sono stai cercando la trascendenza nell'immanenza e stai proprio agendo in un modo che non ti potrà portare a nessun reale successo e poi vittima di te stesso e di tutti i tuoi pregiudizi avrà il coraggio di affermare categoricamente le stesse cose che tu Claudio sei arrivato ad affermare dicendo che ha ragione mentre invece mi dispiace ma Mauro Biglino ha sacrosantamente torto.